Cultura Panis, il pane e la panificazione artigianale tra tradizione e futuro. Questo l'evento presentato da Confesorcenti che si svolgerà nel weekend dell'11 e del 12 maggio che vedrà protagonista una serie di iniziative dove al centro saranno messi il pane, i panificatori e la loro storia. È un evento unico che è diviso in due parti, voluto dalla Confesorcenti nazionale, da Asso, Panificatori e Fiesa che sono i nostri due sindacati di riferimento in occasione proprio della capitale della cultura. Il pane è cultura, tant'è vero che come vedete il titolo della mostra e poi dell'evento è Cultura Panis. Il pane è cultura, il pane è salute e ci dà anche, oltre all'nutrimento, ci dà anche tanta soddisfazione a livello psicologico perché il pane è buono. Il pane è fatto artigianalmente, il pane non industriale, è un pane che arriva oltretutto da tutta Italia. Lo vedrete nella nostra mostra che verrà allestita all'interno del Palazzo Gradari. Insieme a una mostra fotografica. Finito quello ci trasferiremo tutti al Teatro Rossini, presso la Sala della Repubblica, per un convegno in cui verranno illustrati i benefici del pane, ci saranno anche nutrizionisti e i nostri presidenti che arriveranno da Roma. Sabato all'inaugurazione della mostra del pane interverrà Sua Eccellenza il Vescovo Sandro Salvucci, Monsignor Sandro Salvucci che benedirà il pane, la mostra fotografica e anche lui va ringraziato per la disponibilità e per la disponibilità di averci messo a disposizione tante parrocchie della diocesi. Domenica in 11 chiese qui nella provincia di Pesola verrà distribuito un panino come simbolico per la tradizione del pane e come il pane per un evento per la pace, perché non dimentichiamo i momenti in cui viviamo che la pace secondo me è sempre la prima cosa che noi dobbiamo svegliarsi la mattina e cercare di costruirla, purtroppo non è così. Ora facciamo con tutte le chiese per raccogliere dei fondi per la Caritas che dovranno operare in quei settori della guerra per realizzare qualche beneficio per questa popolazione che sono martoriata dalla guerra. Pagnoni apre poi una parentesi anche sullo stato attuale dei panificatori e del mercato del pane con dati che fanno riflettere sui cambiamenti che hanno riguardato questo settore. Un momento molto difficile perché a parte che il pane non si mangia più, diciamo, è un pane che dieci anni fa se ne mangiava 800 grammi a nucleo, oggi ci siamo arrivati a 360-70 grammi a persona, perciò non c'è più quel gran consumo di pane e purtroppo non si trova lavoranti, diciamo, non si trovano dipendenti, è difficile, le leggi non ci aiutano in nessun modo perché anche questa è la realtà delle cose, ma purtroppo andiamo avanti, i vecchi che sono rimasti lottono ma è dura.